una ventina davvero si le odio brava e questo che fate se non sarebbe meglio smettere di odiare e pensare a noi no a morte le puttane le poracce tutte le troie del mondo c'è tutta le troie del mondo addirittura soprattutto quelle che si censurano i capezzoli e la pagina tutte tutte basti indici cosa odi io non odio niente e odiare è una cosa molto brutta noi odiamo le troie le troie si ogni sorta dei cagni si le odiamo si quelle bagasce ragazzi ufficialmente questa è stata la mia i miei due giorni detox da domani non berrò più latte di soia non voglio prendere le soia non mi voglio emborrachare più perché in questi giorni mi puse a assar il culo a brutto troppola a a a a a